Belli Bulevardi, palla poi servita ancora verso lo stesso Bulevardi, entrata ai danni di Novotny che lancia un urlo dopo aver subito questo colpo allo stenco, rimane a terra l'attaccante cieco del Napoli. Andiamo a rivedere il contatto fra Bulevardi e Novotny, rimessa con le mani per il Pescara, siamo oltre il quarto di recupero, Novotny è stato accompagnato da bordo campo per permettere al gioco di riprendere, attenzione ancora a questa opportunità, conclusione! E il Pescara trova il pareggio, il Pescara trova il pareggio, al quarto di recupero il gol del pareggio, due a due, incredibile ad avversa, il Pescara trova il pari con Carcalis, quarto di recupero, Carcalis, Fulmina Crispino, due a due, esplode nella sua gioia la panchina del Pescara, Carcalis trova il pareggio, rivediamo il lancio di Bulevardi. In Gretoli spizza il pallone di testa, arriva Carcalis con il sinistro, Fulmina Crispino, grande conclusione che si infila proprio sotto la traversa nel recupero, il Pescara trova il pareggio dopo che aveva avuto un paio di enormi occasioni, anche nei minuti precedenti Carcalis firma il due a due, quando eravamo già oltre il quarto di recupero, ma il recupero era stato aumentato per l'infortunio di Novotny e l'arbitro credo abbia fischiato anche la fine del match, finisce la gara con il punteggio di due a due fra Napoli e Pescara, Carcalis trova il pari proprio allo scadere, noi chiudiamo qui il collegamento in diretta da Avversa, ci risentiremo su Sport Italia 24 per l'intervista ai due mister. Per ora è tutto, finisce 2-2 la gara fra Napoli e Pescara, grazie e un saluto da parte di Matteo Gandini.